Il teatino Enzo Iacovozzi 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 Qual è il teatino Enzo Iacovozzi E' chiuso L'ufficio turistico Non è che è chiuso non ci sta niente sono il campanello sono una persona è poco accogliente E' poco accogliente Ma, visto che lei ha vissuto sia in Italia che in Germania ma lei preferisce vivere qui dove passa l'estate qui in Italia o preferisce vivere in Germania? Allora c'è una frase, dove io mi trovo sto bene. Con questa massima ringraziamo il signor Enzo Iacovozzi, vicepresidente dell'associazione Italo-Tedesca. Da Cristiano Vignale è tutto per l'Agenzia Stampa Italia. Grazie.